Non ti ricordi quel mese d'aprile, quel lungo treno che andava al confine, che trasportavano migliaia degli alpini, su su correte è l'ora di partì, che trasportavano migliaia degli alpini, su su correte è l'ora di partì. Dopo tre giorni di strada ferrata, e dagli due di lungo cammino, siamo arrivati sul monte canino, e a ciel sereno ci tocca riposar. Siamo arrivati sul monte canino, e a ciel sereno ci tocca riposar. Non più coperte, lenzuola, cuscini, non più sapore dei caldi tuoi baci, solo si sentono gli uccelli rapaci, fra la tormenta e il rombo del canno, e il rombo del canno. Se avete fame, guardate lontano, se avete sete e la tazza alla mano, se avete sete e la tazza alla mano, che ci rinfresca, la neve ci sarà. Se avete sete e la tazza alla mano, che ci rinfresca, la neve ci sarà. Um, le ha sì, guardate lontano, Grazie a tutti. Grazie a tutti.